La storia del calcio insegna che esistono capitani che diventano bandiere. Noi ce l'abbiamo ad Erzachena, siamo qui con il capitano Danilo Bonacquisti. Ciao Danilo. Grazie per il complimento, è bello essere il capitano di Erzachena, non sono ancora una bandiera, speriamo di esserlo in futuro. Tre stagioni importanti all'Erzachena, un anno sabatico e poi il ritorno ancora ad Erzachena. Sono molto contento di essere tornato ad Erzachena, per me è un motivo d'orgoglio tornare qui perché per me è una seconda casa. Sono onorato che la società mi ha fatto di nuovo capitano dopo gli anni trascorsi in questa società. Speriamo di ripagarla al meglio durante questa stagione. Stiamo andando bene e speriamo di andare ancora meglio. Un anno sabatico caratterizzato da un grave infortunio, raccontacelo Danilo. È stato un brutto infortunio che purtroppo mi ha lasciato fuori dal campo un anno, dove ho dovuto subire due operazioni, la prima per ridurre la frattura e l'altra per poi toglierla. Ringrazio la società che mi ha aspettato fino alle prime di campionato per cercare di essere il meglio. La ringrazio perché nonostante tutto facevo allenamento e la preparazione, mi hanno dato la possibilità di fare la riabilitazione in un centro specializzato e per questo sono molto grato. La sfortuna a volte si accanisce verso i calciatori, no? Dopo l'infortunio al gomito, un altro infortunio questa stagione alla caviglia. Subito dopo l'infortunio che ho avuto al gomito sono rientrato, purtroppo ho avuto questo infortunio alla caviglia che mi ha tenuto lontano per un mese dal campo. Sembrava che la sfortuna si stesse abbattendo contro di me, ma purtroppo fa parte del calcio e fa parte di noi calciatori. Speriamo che adesso la sfortuna giri un po' alla larga e basta. Però come da capitano la fortuna a volte si sconfigge e il tuo rientro da poco con la grande dimostrazione di domenica con il gol? Dopo l'infortunio ci sono state due settimane per recuperare bene e domenica scorsa ho avuto la fortuna di fare gol contro l'Ansio. Abbiamo fatto una bella prestazione di squadra e spero che questo gol mi possa permettere di trovare un po' di fiducia in me stesso. Soprattutto cercare di trovare ancora di più la condizione ideale per fare il meglio. Domenica è una partita speciale per te. Parliamo dell'Isola Liri, i tuoi vicini di casa? Domenica è una partita molto importante per noi perché fare risultato vuol dire piazzarci bene in una bella posizione di classifica. Riguardante la partita di Isola Liri per me ha un sapore particolare perché comunque essendo una squadra ciociara è sempre diverso giocare con delle squadre che corrispondono alla mia zona. Però per noi è importante fare un grande risultato perché dobbiamo dare continuità ai nostri risultati per cercare di consolidare la nostra posizione in classifica. Speriamo che i tifosi vengano molti numerosi allo stadio perché abbiamo bisogno di loro per cercare di centrare questa partita, questa vittoria. Ringraziamo il nostro capitano Danilo Bonacquisti. Siamo qui con Antonio Cavallo Dedola, uno dei giovani più promettenti della Serie D e ce l'abbiamo ad Arzachena. Grazie mille per i complimenti. Sono venuto qui ad Arzachena per lavorare duro, per crescere, vista la mia giovane età. Spero ogni settimana di allenarmi al meglio per scendere domenica in campo e far vedere al mister che posso valere di più degli altri giovani. Dopo un anno importante a Fertiglia sei approdato qua ad Arzachena. Come ti senti? Dopo una buona stagione al Fertiglia, l'Arzachena mi ha fortemente voluto qui nella propria squadra. Cercherò di essere al meglio per questa società per gli obiettivi stabiliti nel suo campionato. Una grande prestazione domenica, suggellata anche dal gol? A causa dell'infortuna del mio compagno di squadra, il mister ha deciso di farmi giocare nella fascia sinistra, anche se io sono un giocatore che gioca sulla fascia a destra. Però il mister vuole che spinga molto su quella fascia per aiutare soprattutto il reparto offensivo. Grazie all'ultima prestazione della squadra, finalmente sono riuscito ad andare in gol, il mio primo gol in Serie D, a raddoppiare il risultato. E dopo anche aver preso, dopo 47 secondi, una traversa dalla lunga distanza. Domenica un match importante con Isola Liri per confermare il buon periodo dell'Arzachena. Domenica sarà una partita durissima, però avremo l'aiuto del nostro dicesimo uomo in campo, che sarà il pubblico. La nostra tifoseria spero che ci aiuti fortemente come fa ogni domenica. Con noi oggi c'era una delle promesse dell'Arzachena, Antonio Cavallo D'Edola. La nostra tifoseria spero che ci aiuti fortemente come fa ogni domenica. Grazie. 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 Grazie.